Salve a tutti, io sono Ono Bandana e vi consiglio vivamente di guardare La Fornace TV e, se non vi scoccia troppo, dare anche uno sguardo a istitutolafornace.tv, che è il nuovo sito dell'Istituto Cinematografico La Fornace, che finalmente dopo tanto siamo riusciti ad attivare. Questo è tutto, una rivederci a tutti con la speranza di tirare fuori un ennesimo capolavoro dopo i due che ci hanno fatto diventare famosi nel mondo come La Fornace.